Il giornalista Federico Pedrocchi e interverranno Joan Carlos De Martin Angelo Raffaele Meo Paolo Montuschi Alberto Parola Guglielmo Trentin Matteo Uggeri Grazie a tutti Ci stiamo tutti? Forse non ci stiamo tutti Magari scaliamo un peggio Un po' disordinato Un po' disordinato Coperti A loro ma insomma Ci siamo? Va bene Allora iniziamo Abbiamo deciso Ci siamo sentiti con i Tutti noi Abbiamo deciso Di fare una tavola rotonda Nel senso stretto del termine Cioè non ci sono degli interventi Tipo mini convegno Discutiamo insieme A partire da alcuni interrogativi E quindi Non andiamo oltre Il tempo Prestabilito Contiamo di finire Quindi alle 18.45 Alle 19 Al massimo Quindi rispettando i tempi Certo c'è stato Un allungamento Una partenza Lenta Io intanto chiedo Allora Matteo Ugeri E Guglielmo Trentin Li conoscete già Perché si sono presentati Rapidamente Da Dal fondo Una Chiederei A I nostri partecipanti Di Presentarsi un attimo Cioè Che cosa fate Che tipo di attività Svolgete Sì Prego Raffaele Angelo Raffaele Meo Del Politecnico Di Torino Prego Ecco Dovevo premere un esperto Autopresentazione Io mi chiamo Meo Di cognome Angelo Raffaele di nome E sono In pensione Sono un professore Del Politecnico Di Torino E ho collaborato Da molti anni Con la scuola In ospedale Bene Poi Matteo Ok ci siamo già sentiti Ok Paolo Montuschi Lavoro anch'io Presso il Politecnico Di Torino Sono stato direttore Del Dipartimento Automatica e Informatica Per Otto anni Adesso Fortunatamente Ho passato Il testimone A qualcuno più giovane Di me Mi occupo Di editoria digitale Nell'ambito Della IE Computer Society Termine tecnico Institute of Electric And Electronic Engineers Ovvero Delle opportunità Che l'editoria elettronica Offre Sto parlando di cose Che sono Ben oltre Semplici PDF Visualizzato Sullo schermo E o Dispositivi Quali Personal computer Per vedere Documenti Digitali Mi chiamo Mi chiamo Juan Carlos De Martin Insegno al Politecnico Di Torino Sono un collega Di Paolo Montuschi E mi occupo Di internet E oltre a ciò Dico soltanto Che da diversi anni Seguo per l'Italia Il progetto Creative Commons Parola Teneteli pure aperti Che intanto Ah scusa Allora Buongiorno a tutti Io sono un docente Dell'Università di Torino Sono un metodologo Della ricerca E Diciamo così Esperto Forse è una parola Un po' grossa Ma Mi occupo Di educazione In media E di tecnologie Dell'istruzione Da quando sono piccolo Quindi insomma Tutto sommato Forse sono l'unico Umanista della tavola Non lo so Credo di sì Forse sì Sì Io brevemente Sono giornalista Di scienza Del Sole 24 Ore Di Radio 24 E qua Faccio il moderatore La prima Forse una riflessione Dalla quale si potrebbe Partire E sentire un po' Delle opinioni In ordine sparso E che In In un'esperienza In questo tipo di attività Che ci sono state Illustrate Finora Nel convegno di oggi Emerge un dato interessante Per quanto riguarda Le tecnologie informatiche In generale E le nuove tecnologie E cioè E questa è una cosa Che si sta riscontrando Anche in altri ambiti Io Professionalmente Seguo molto Per esempio Tutti questi progetti Di Smart City Che stanno decollando Qui a Torino C'è un'attività Abbastanza intensa In questa direzione E ci sono proprio Come due grandi Aree Di cui però Una è nettamente Maggioritaria E l'altra invece Si sta appena appena Adesso affacciando Con una certa forza Ed è E quali sono Questi due territori In uno abbiamo Le tecnologie Che si propongono Con forza Di per sé A partire Da Quello che Danno E si pensa Possano dare Immediatamente Come strumenti Che Informano E generano Il mondo Lo creano Per il semplice fatto Di essere State inventate L'altro ambito Che però A mio parere È estremamente Interessante È quello Nel quale Si parte Da bisogni Esigenze Emozioni Problemi Di tipo Sociale A volte Anche Piuttosto Complessi E sofisticati Come per esempio Questo Di cui si parla Qua Oggi E poi Si va A creare A utilizzare A modellare La tecnologia Che serve Il Il dato Interessante Che mi sembra Emerga Dal punto di vista Tecnologico È che Partendo Da questo Secondo territorio Si riesce a tirar fuori Dalla tecnologia Cose grandi Nottevoli Che invece Se si parte Nell'altro modo Non vengono fuori Perché Si chiede Si prende Dalla tecnologia Quello che immediatamente Dà No? Invece Nell'altro percorso Si riesce a stressare Molto di più E a farle fare cose Estremamente Significative Io vorrei Porvi inizialmente Questa riflessione Anche perché Credo che sia Importante Per delle persone Che lavorano In un ambito Specifico Su questo tipo Di esperienze Penso che sia interessante Riflettere sul fatto Che stanno facendo Una cosa Specifica Però Ci sono In questa cosa Specifica Che stanno facendo In questo esperimento Dei significati Anche molto più ampi Che possono essere Emblematici Per altre Attività Per altre Esperienze E in effetti Qui tra l'altro No? Al tavolo Alcuni di voi Lavorano In altri ambiti E sono qui Perché evidentemente È possibile Una Come dire Vasi comunicanti È possibile Una Contaminazione Reciproca Chi è che vuole Iniziare a riflettere Su questa cosa? Forse l'umanista Forse l'umanista Non Non servevo Di essere Di essere Come dire Primo A parlare Ma Non posso Che essere D'accordo No? Vi spiego Per esempio Che cosa facciamo Noi Quando Immaginiamo Di Documentare E osservare Buone pratiche No? Il consiglio Che diamo Sempre agli insegnanti È di Partire da Bisogni reali Partire da Dati di cronaca Partire Comunque Da elementi Che possono essere Di immediato interesse Per i ragazzi Questo vale Oltremodo Per bambini E ragazzi Che hanno Difficoltà E che ovviamente Sono momentaneamente Esclusi Dalla vita Dalla vita Reale Io credo Fondamentalmente Che le tecnologie Per come le conosco Io Se non c'è Un buon mediatore Servono a poco Ecco Non voglio difendere In assoluto Come dire La parte Come dire Il ruolo Umano Che le tecnologie Devono Devono giocare Le tecnologie Soprattutto Negli ultimi anni Sappiamo benissimo Sono frutto Di aspetti Tecnici Ma anche Il web Ce le insegna I social media Ce le insegnano Di affetti Di questo desiderio Continuo Di raccontarsi Ecco Visto che Prevedo di parlare Un minuto e mezzo Perché La tavola rotonda No però L'idea di soffermarsi Soprattutto su parole chiave No quindi Credo che La La forza Delle tecnologie Stia Anche Soprattutto Nella capacità Di essere Storytelling Cioè di raccontare Delle storie Perché Fondamentalmente Quello che Il web Ci restituisce È proprio questo Cioè l'idea La voglia Il desiderio Di raccontare E di E di raccontarsi Io partirei da qui Ecco Sì Prego Io sono un tecnologo duro E quando dico duro Mi riferisco a due aspetti Primo che arrivo Dalla tecnologia Dell'hardware Che più duro di così Non si può Secondo Alludo anche Una certa Ottosità mentale Va bene Ciò premesso Sono un pochino Preoccupato Della tua Impostazione Che dai a questo Discorso Da tecnologo duro Insomma Quindi Consenti Brevemente Che io Da scimi Antropomorfa Ti Chiarisca il mio Concento Un altro taglio Cioè Se non padroneggi La tecnologia Al cento per cento Non fai nulla Se non usare Applicativi Del mercato Che servono A far fare Profitto A qualcuno Lo dico Pensando in termini Pensando Nello specifico Al nostro caso Della scuola in ospedale Senza Un solido appoggio Alla tecnologia Vero Gioppo Non avremmo mai realizzato Quello che abbiamo realizzato E pensando In termini più generali Al nostro sistema Paese Il nostro sistema Paese È in ritardo Perché Non investe In ricerca e sviluppo Da dieci anni A questa parte Ci sono dei dati Che sono chiarissimi Da questo punto di vista La correlazione Tra la carenza Di investimento E L'incremento Del pile È evidentissimo Il nostro pile In dieci anni È cresciuto Poco meno Di un terzo Della media europea Mentre l'investimento In ricerca e sviluppo È crollata A picco Sì da essere Nell'ultima posizione In Europa E Si parla No Sto andando oltre I miei termini Ma volevo dire Che Agenda digitale italiana È un esempio Da questo punto di vista È un progetto Estremamente importante Però è un progetto Che ha un senso Soltanto se Uno Viene attuato In una logica Di software aperto E di interapparabilità Piena Diversamente Non si combinerà Mai nulla Lo prova La vicenda Delle lavagne Interattive Multimediali Di cui abbiamo Tessuto le lodi Per tanto tempo Che però Non si parlano Tra di loro Ebbene La mia impressione Leggendo Quello schema Quel documento Di agenda digitale Italiana La mia impressione È che si pensi Alle tecnologie disponibili Il mio sospetto Da scimmia antropomorfa È che si pensi Di far fare business A qualcuno Anziché Pensare A una opportunità Di sviluppo Che quel progetto Indubbiamente Rappresenta Io rilancio Agli altri La cosa Però mi sembra Che la discussione Possa spostarsi Un po' più Verso l'alto Dal punto di vista Della visione Non di densità Nel senso che Non è che È in contraddizione Cioè Il problema Certamente È padroneggiarla E come Svilupparla In modo Ancora più Sofisticato Di quanto Può essere Quindi ci deve essere Una grande Conoscenza E competenza Tecnologica La cosa Che vi buttavo Lì come Riflessione È che Molto può dare La tecnologia Di più Se riusciamo Effettivamente A utilizzarla Come uno strumento Che nasce Però Da una Come si È talmente Stramba Questa cosa Che non è facile Da definire Perché è un po' banale Dire nascere dal sociale Per carità Però insomma Credo che Ci siamo capiti Cioè Se c'è Se non si commette L'errore Che allora Siccome ho quella tecnologia Il gioco è fatto No Questa è un po' la cosa Io ogni tanto Lo faccio Mi diverto In qualche situazione A fare un esempio Iperbolico E dico Supponiamo Che fosse arrivato Il videocitofono Se non c'era Qualche d'uno Che Per primo Se non c'era Qualche d'uno Che rifletteva Dal punto di vista I contenuti Non avremmo mai avuto La televisione Insomma Ci saremmo fermati Al videocitofono Ecco Un po' questo Insomma Se posso fare una battuta Beh credo che Uno dei principali motivi Di sfiducia Degli insegnanti Durante la formazione LIM Sia questa Cioè Che la formazione Sia basata Soprattutto Sugli aspetti Tecnici Invece Io credo Fermamente Che la formazione LIM Deve essere fatto Da un insegnante Che sappia bene Usare la LIM Nel modo didattico Nel modo più efficace Possibile Dal punto di vista didattico C'era Uggeri E poi Non volevo l'applauso Lui lo sapeva Che c'era Matteo poi Credo che Una cosa interessante Possa venire Proprio anche Dall'esperienza Della scuola in ospedale Quello che Diceva Federico Poco fa Mi ha fatto Pensare A quello che I paesi anglofoni Chiamano Bottom up strategy Ossia Far crescere Qualcosa dal basso L'ambito Della scuola in ospedale Rispetto All'uso Delle tecnologie Mi sembra Che sia uno di quelli In cui questo Avviene più Frequentemente Nel raccogliere Le buone pratiche Di cui vi ho parlato E che non Non c'è stato tempo Di mostrarvi Sono rimasto Molto colpito Dal fatto Che Ci sono Molte Sezioni ospedaliere Molti docenti O anche volontari Che hanno delle idee A volte Non geniali Ma che comunque Permettono loro Di sfruttare Le tecnologie A disposizione In maniera Molto anche creativa Tipo Delle sezioni ospedaliere Che hanno creato Delle radio O addirittura Delle televisioni In rete E tutto questo Oppure anche L'utilizzo Di strumenti Di social software Per creare Delle classi virtuali Tra cui anche Ad esempio L'uso di facebook Poi sono d'accordissimo Con il mio collega Che effettivamente C'è sempre il pericolo Che Che l'uso Di tecnologie Legate comunque A specifiche aziende Che coprono Il mercato In maniera Molto pesante E che cercano anche Di penetrare I meccanismi istituzionali Soprattutto nel campo Education E quello che sta facendo Apple È molto evidente Sia abbastanza Pericoloso Però al tempo stesso È molto bello Che dal basso Ci sia questa Questa grande Grande creatività Grande forza È chiaro che È un suo risvolto Negativo Nella misura In cui Non dovrebbe essere Solo così Cioè ci dovrebbe essere Magari più aiuto Dall'alto Sia nella formazione Che nel fornire Strumenti E tecnologie Adatte Però Mi sembra che Il campo Della scuola in ospedale Sia abbastanza Virtuoso Ecco in questo senso In realtà Accolgo Lo schema Però lo estendo Un pochino Nel seguente Senso Che affinché Dal basso Usiamo questa Costruzione verticale Ma che dal basso Possono venire Degli stimoli In realtà È necessario Che la società Abbia una visione Di queste tecnologie Abbia una concezione Di queste tecnologie Il personal computer E quindi i dispositivi Che abbiamo anche in tasca Oggi Che derivano dal personal computer E fatto così E addirittura Si chiama personal Personale Perché prima C'era una visione Culturale Preesistente Che risale agli anni 60 Che quando poi La tecnologia Si è strutturata Agli anni 70 È diventata possibile Ha trasfuso Questa idea In realtà È una vera e propria ideologia Cioè Che sia possibile Una trasformazione personale Grazie alla tecnologia In particolare Una tecnologia Controllabile Sotto il nostro controllo Allora Da questo punto di vista E mi collego A quello che ha detto Il professor Meo Ma anche gli altri La consapevolezza Che questa tecnologia Non è un appliance Non è una lavatrice Che posso soltanto Usare secondo Un programma preimpostato Ma che Anche i tablet Anche gli smartphone Sono una tecnologia Che per progetto Può essere modificata E plasmata Non c'è bisogno Di avere Le conoscenze tecniche Necessariamente Ma bisogna assolutamente Avere la consapevolezza Che è possibile Plasmarla Perché poi dopo Interagendo con chi invece Le competenze tecniche Ce l'ha Si può prasmarla Nella direzione desiderata Adesso Si è stata citata La Apple Che non è sicuramente L'unica Ma è la più paradigmatica Si sta cercando Di tornare A un'epoca Dell'elaborazione Come appliance Prendi il dispositivo E clicca sul tasto Che vuoi usare Piuttosto che È una tabula rasa Con amplissime libertà Di progettazione Questo infatti È un problema Rosso Prego Allora Io assolutamente Non so come faccio Forse È il marchio poli Sono d'accordo Con il collega Juan Carlos De Marti Nel senso che Nella mia esperienza Io ho visto Che L'approccio alla tecnologia È molto Da correlarsi Non solo All'ambito Nel quale Noi ci muoviamo Siamo Tecnologi Abbiamo in casa Qualcun esperto Di tecnologia L'abbiamo sempre Vissuta Oppure Ci siamo sempre Scontrati Ma direi Ahimè Anche Da un punto di vista Generazionale Cioè Per chi Non ha Familiarità Con lo strumento E devo dire Che Per le grandi aziende Sono poi quelli Che hanno i soldi Perché i ragazzini Hanno anche pochi soldi La tecnologia Vuol dire Un insieme di procedure Se usciamo Da queste procedure Schiacci il pulsantino Fai questo Fai quell'altro Come si accende l'iPad Come si spegne Se va troppo lento Se devo risettarlo Oddio Se è bloccato Cosa devo fare Non riesco a copiare Il file Non riesco a stampare Il file Come faccio A mandare il file Che ho la presentazione Tra 5 minuti E voglio proiettare un video Io non sono neanche convinto Se mettendo là Il mio iPad Pur avendo il cavetto Di collegamento Questo sistema Perché mi è capitato Riuscirà a proiettarmelo Mi è capitato Ho fatto la presentazione A giovedicenza Sono andato con il mio Bel computer L'ho collegato Un'ora prima Ahimè Meno male che avevo la chiavetta E sono riuscito A trasportare i miei file Da un computer A quell'altro Per la mia generazione Per la nostra generazione La tecnologia è un insieme Di procedure Ma io guardo le mie figlie Le mie figlie sono sotto i 20 anni Sono ancora due minorenni È un insieme di opportunità Che cosa posso fare Che cosa non posso fare Allora secondo me Credo che l'approccio giusto Sia come sempre Un mix di esperienza Con Quello che possono dare Gli insegnanti Che sono assolutamente Insostituibili Con creatività E fantasia Nell'uso dello strumento Mettete in mano Uno strumento come questo A un ragazzino Adesso il professor Meo mi raccontava Che la sua nipotina Ha preso in mano L'iPad Ed è riuscita Io solo sa come In realtà Lei lo sa benissimo A scaricare 80 dollari Di applicazioni Dall'Apple Store 80 dollari Per comprare Animali virtuali In un negozio virtuale Però i dollari Non reali O meglio Così l'American Express Ci ricorda ogni volta Alla fine Del Al momento Della Della fatturazione E questo è solo un ambito E questo è solo un ambito Cioè l'approccio Dell'insegnante È molto tosto Non so se avete letto La stampa di oggi Se avete l'opportunità Di farlo Andate a leggervi L'articolo di Gramellini Sulla rimpatriata Che ha fatto Con i vecchi compagni Delle elementari Con la maestra E col ruolo Della maestra Il ruolo dell'insegnante È fondamentale Ma non soltanto Nell'ambito Della scuola in ospedale È fondamentale Ovunque Perché deve Da un lato Guidare questi ragazzi Ma dall'altra parte Non sentirsi un escluso Da questa società Perché questi ragazzi Ne sanno decisamente Molto più di noi Io mi ricordo Ho fatto L'assistente a professor Meo Qualche anno fa Mi disse Facciamo il corso Il quinto anno Al secondo semestre Quindi alla fine Del percorso Del percorso Di laurea in ingegneria Mi disse Qualunque argomento E Juan Carlos Era uno degli allievi Qualunque argomento Professor De Martin Qualunque argomento Tu vada a raccontare Ce ne sono almeno Due o tre persone Che ne sanno più di te Quindi Primo Non ti scoraggiare Se ti fanno una domanda Non ti fanno una domanda Per metterti in difficoltà Ne hanno Centomila di motivi Per metterti in difficoltà Se ti fanno una domanda È perché devi cercare Di andare a capire Oltre quello Che è il mero Approccio Approccio procedurale Perché vogliono sviluppare La loro fantasia Allora Il rischio È quello che diceva Il professor Meo È quello che diceva Il professor De Marti È quello che dicevano I colleghi seduti in questa tavola Ci danno E ci viene data Una tecnologia Preconfezionata Noi viviamo In un schema E dentro degli schemi Per uscire fuori Da questi schemi Dobbiamo cercare Di usare Lo strumento Per quello Che lui ci offre Ma dando spazio Alla fantasia Io Al prossimo turno Di microfono Voglio raccontarvi Che approccio Nei confronti Degli ebook reader E vorrei poi anche sapere Da voi Quanti di voi Usufruiscono In questa nuova tecnologia Che Cambierà il mondo In due anni Tre anni Anche meno Gli ebook Sì Sì Forse il mio ruolo Qui è un po' Quello di far L'avvocato del diavolo Perché Cerco di ribaltare Un po' Le situazioni Ma dunque Io provo a mettermi Nei panni Di un insegnante Che ha bisogno Di imparare In fretta A fare le cose Poi sa fare L'insegnante Questo lo sappiamo Però Come fa a rincorrere La tecnologia L'insegnante Non lo può fare Come fa a aspettare Le politiche Nazionali E internazionali Di modo che Appunto Le multinazionali A un certo punto Vengano Come dire Un pochino Non so come dire Rosicchiate Dal fatto Che a un certo punto Tutte le scuole Del mondo Cominciano a usare Diciamo così Le tecnologie free Cioè voglio dire Dobbiamo ragionare Oggi Poi la tendenza Speriamo sia quella Io non Vedo che Per esempio Facebook Da poco È in borsa Questo è un problema Però allo stesso tempo Se mi metto Nei panni di un insegnante Come dire Non posso inventarmi Un nuovo social media Non ha senso Uso quello che c'è L'insegnante Deve usare quello che c'è Allora Facebook Con i problemi Che ha Perché è in borsa E vale 104 miliardi di dollari Cosa di questo tipo Deve secondo me Essere utilizzato Dal punto di vista didattico Abbiamo esempi molto chiari Di come i gruppi Degli insegnanti Su Facebook Funzionano molto bene E si impara Partendo dal basso Cioè voi imparate L'uno dall'altro Anche grazie a Facebook Il gruppo Scuola a casa Per esempio Non so qualcuno di voi Ha iscritto al gruppo Scuola a casa Di Facebook Qui Strano Perché È proprio un gruppo Specifico Per questo luogo Io vedo Domani magari Qualcuno si è iscritto Ecco Guglielmo Trentino È iscritto Allora Quello che vi voglio dire Benissimo Le politiche Sono fondamentali Ma l'insegnante Deve guardare oggi Imparate tra di voi Imparate ad autoformarvi Se tutti i giorni Avete la percezione Di aver fatto Un passo in più Sull'uso delle tecnologie Quello è il modo giusto Per appassionarvi Altrimenti Non ne usciamo vivi Pallavolisticamente Alberto Parola Me l'ha alzata Io schiaccio No Perché siamo molto allineati Da questo punto di vista Cioè Adesso io vorrei fare una cosa Intanto Vedere se riesco A dare anche io Il mio contributo Allo stimolo Che ha dato il nostro Moderatore Poi magari Non so se in questo giro Nel prossimo Cercare di ricondurre Il discorso A quello che credo Che sia poi il focus Di questa dava rotonda Cioè cercare di capire Se e quanto Quello che viene sviluppato In termini non soltanto Tecnologici Ma anche metodologici Possa diventare Qualcosa di trasferibile Nella didattica Diciamo Normale Non soltanto Sotto lo stimolo E l'esigenza Di un caso Di disagio Da dover gestire Allora Ci sono questi due aspetti Fondamentalmente C'è l'aspetto di dire Sì effettivamente Noi potremmo spingere Lo sviluppo di tecnologia Però Visto che Sono stato l'ultimo a parlare Raccolgo effettivamente No E condivido alcuni aspetti Questo dovrebbe essere Il mondo della ricerca Chi sviluppa A cercare di cogliere Quali sono Le esigenze Attraverso le esperienze Che si sono maturate E conseguentemente Pilotare Gestire attività Di sviluppo tecnologico Che vadano a colpire Determinate esigenze Il professor Meo Ha colto Ha toccato Il nervo scoperto Purtroppo finanziamenti Per fare queste cose Ce ne sono sempre meno Di conseguenza Anche in un contesto Di ricerca Diciamo Sull'uso di tecnologie Di istruzione Così come ha accennato Prima Alberto Parola Si cerca di fare Di necessità virtù Cioè si va a vedere Quello che esiste E conseguentemente Si cerca di fare Un ragionamento Di questo tipo Quali sono le mie Esigenze didattiche Per affrontare Un discorso Didattica ospedaliera O didattica Domiciliare Conseguentemente Quali sono Le mie esigenze Di comunicazione Di interazione Per gestire bene Un processo Parzialmente in presenza O parzialmente a distanza O totalmente in presenza O totalmente a distanza Di conseguenza Ancora Individuare Quello che in questo momento Ci troviamo in tasca Ci troviamo sul tablet Ci troviamo libero Sulla rete Da poter utilizzare Per far fronte A questi tipi di esigenza Quindi diciamo Che da questo punto di vista È evidente che C'è una contrapposizione Un po' Di questi due piani Quello che In questo momento Io ritengo Si possa fare Per rendere operative E velocizzare Determinate L'applicazione E l'acquisizione Come diceva prima L'ispettore Da buona pratica A prassi Credo sia quello Di giocare un attimo Su già le abitudini Che le persone hanno A utilizzare Determinate tecnologie Cioè uno dei punti Da cui Noi stiamo In qualche maniera Muovendoci Per cercare di Movimentare un pochettino Il contesto È quello di dire Andiamo a vedere Quali sono le abilità Non solo degli studenti Quelli che le conosciamo Metodo non ne hanno Hanno grande capacità Di tipo Voglio dire Tecnico operativo Dall'altra parte Abbiamo delle grandi competenze Da parte dei docenti Dal punto di vista Della metodologia Della capacità Di seguire lo studente Nel suo processo Di apprendimento Quali sono le competenze Che adesso ha già L'insegnante Dal punto di vista Tecnologico Perché adesso Cominciano a crescere Queste competenze Visto che comunque Giriamo con strumenti Chiaramente non tutti Però voglio dire La diffusione di questi strumenti È ampia Cercare di coniugare In qualche maniera Queste due cose Favorendo dei processi Di innovazione didattica Che facciano tesoro E facciano leva Su queste competenze Termino il mio giro Però dicevo Poi magari dopo Se c'è la possibilità Vorrei dire due cose Su l'osmosi Che ci può essere Fra esperienze Della scuola domiciliare E quella Sì ma io direi Che possiamo Entrare dentro questo Perché in fondo Quello che osserviamo È che poi Si parla di tecnologie Stando molto appiccicati A quello che In gergale Ormai da tempo Si chiama lo smanettamento Cioè la capacità Di far andare Delle macchine Ma noi qui Già con una vicenda Come questa Che è al centro Del convegno Stiamo entrando Nel livello Che anche se Sempre presentato Storicamente Nella storia Delle tecnologie Quello più sofisticato Dove Non si esce Dallo smanettamento Perché Le si usa Ad un livello Decisamente più alto Allora per esempio Il problema Che poneva lei Cioè quello che può Da un'esperienza qui Si trasferisce a un'altra Beh Questo non è smanettamento No? La tecnologia A un certo momento Diventa uno strumento Molto sofisticato E forse Ci sono alcuni Lo sapete Che dicono Io per esempio Sono d'accordo Che dicono Internet è ancora Nella sua fascia Nella sua periodo Adolescenziale Potrà dare Decisamente di più Questi strumenti Non so Forse mi viene l'esempio L'aratro Certo c'è una storia Dell'aratro Che a un certo momento Fa un salto netto Dall'aratro di legno Che continuava a rompersi A quello di ferro Lì siamo Lì siamo appunto Lo strumento piatto Poi a un certo momento Da quella roba lì Nasce quella tecnologia Che si chiama agricoltura Che è una roba Paurosamente più sofisticata Che ha degli strumenti Questo salto qui In fondo È quello che deve No? Avvenire E le esperienze Di questo genere Che sono molto complicate Nella relazione Uomo-macchina Possono essere In fondo Sono di frontiera Non siete d'accordo Che sono esperienze Di frontiera Cosa ne pensate? Prego Io sono perfettamente D'accordo Su tutto quanto Gli umanisti Gli umanisti laiche Hanno affermato sinora Io temo soltanto Che da quell'approccio Discendano delle conseguenze Che sono invece Clamarosamente sbagliate Voglio dire L'approccio del pensare Che l'informatica Sia l'uso del computer L'approccio del pensare Che imparare L'informatica Voglio dire Imparare Word, Excel E Access Questo è quello Che io temo Io sono stato Coinvolto recentemente In una collaborazione Al MIUR Per la scuola Della prima infanzia E il primo documento Che ho esaminato È quello Che riguarda Il corso Di tecnologie E ho letto Quel documento Molto bello Molto elegante Eccetera Però le tecnologie Lì Sono solo Le tecnologie dure L'energia L'acciaio Il petrolio L'ambiente Che è giusto Ma soltanto queste Mentre le tecnologie Soffici Non compaiono Assolutamente mai Nell'insegnamento Io vorrò dire Al ministro Sto scrivendo Il documento Vorrò ricordare Al ministro Che Quello che svolge Le funzioni di ministro Della pubblica istruzione Nel regno unito Ha scritto Testualmente Così come I nostri ragazzi Devono sapere Che cos'è l'energia Nello stesso modo Devono sapere Quali sono I fondamenti Concettuali Dell'informatica I principi Della programmazione Il sindaco Di New York Bloomberg Ha proclamato Questo anno Anno della programmazione E ha detto Io non ne so niente Ma ho capito Che è importante E mi metto subito A studiarla E entro la fine dell'anno Voglio imparare La programmazione Io ritengo Che ai bambini piccoli Bisogna insegnare La programmazione E per andare Un pochino avanti Consentitemi Solo un minuto Per raccontare L'esperienza Di un mio allievo Che è strettamente Connessa Alle cose Di cui abbiamo Parlato oggi Questo allievo È un disabile Motorio Quindi si muove Soltanto Sulla sedia a rotelle Ed è muto Quindi Non è in grado Di proferire parola Ma gli è rimasto Un minimo Di capacità Di muovere le dita Per cui riesce A premere qualche tasto Nell'ambito Della tesi di laurea Che lui ha sviluppato Ha arrolozzato Un trespolo Che fa Queste cose Intanto C'è una sorta Di stenotipia Che lui stesso Si è sviluppata Per cui Premendo un tasto A quel tasto Non corrisponde Un carattere Ma un segmento Di parola E così via E poi ha collegato Il suo sistema Stenotipico Lo ha collegato A un sintetizzatore Della voce Sviluppato qui a Torino Dall'azienda Loquendo Che un paio di mesi fa Nell'ottica di follia collettiva È stata venduta All'estero Senza che nessuno Battesse ciglio Allora ha usato Il sintetizzatore Della loquendo E allora Lui è in grado Di telefonare Perché Preme il numero Del telefono Dopodiché Lui parla Attraverso i tasti Il suo Stenotipista Stenotipista Converte Quello in un testo Il sintetizzatore Della voce Lo converte in voce Poi lui riceve voce E lui sente benissimo E quindi è in grado Di parlare Bene Questa cosa qui È una cosa Che non può essere Un prodotto industriale Ahimè Le diverse Le diverse malattie Di questo tipo Sono tante 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 Che ognuna è diversa Per cui Non ci può essere Un prodotto specifico Per una determinata disabilità Però questo è stato possibile Solo perché questo Era un ragazzo Intelligente E che conosceva I fondamenti Concettuali Dell'informatica Se non le avesse conosciuti Non sarebbe stato in grado Di fare quell'oggetto Certo Certo Sì 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 Il gesto è sempre lo stesso Così scrivo Oppure così Racconto storie Insomma C'è una differenza Scrivo sempre No E quindi entriamo un po' anche Adesso Dò la parola a lei Ma entriamo anche un po' Dentro questo tema Cioè Che cosa Da esperienze Come questa Può essere trasferito Anche in altri campi Ma Prego Sì No Voglio dire Le posizioni Non sono contraposte Cioè Io ad esempio Ho nella mia formazione Un periodo di stage All'Oxelt Che è divenuto Loquendo Quindi Io stesso Da umanista Ho lavorato In un ambiente come quello No Quindi l'invito è Una formazione ibrida Comunque anche Diciamo Chi si occupa Di formazione Degli insegnanti Lo sa questo Voi sapete che adesso La formazione Degli insegnanti Sta modificandosi Formazione primaria Secondaria Attraverseranno Nuove sfide Io mi auguro Vivamente Che si possa Anche dalla scuola Dell'infanzia E Papert Ce lo insegna Guglielmo è uno dei primissimi In Italia Che ha saputo unire L'aspetto tecnico All'aspetto Diciamo Soft Dell'informatica Papert Ma lo vediamo anche Nelle esperienze Di robotica Io sono uno Dei primi Sostenitori Della robotica A scuola Perché È evidente Come L'insegnante Si è in grado Di padroneggiare La tecnica Il punto chiave È questo La capacità Dell'insegnante Di padroneggiare La tecnica E di Assimilarla Alle competenze didattiche Questo secondo me È un punto fondamentale Mi sembra Molto interessante Un discorso Che emerge Da più interventi Quello Proprio Della consapevolezza Nell'uso Di certi strumenti E Il mio collega Ha Detto più volte Che i ragazzi Ne sanno più di noi In parte è vero In parte Nella mia esperienza Anche in progetti Che facciamo Con le scuole O con i ragazzi Universitari Non è del tutto vero Prima di tutto Ma non credo Che fosse questo Quello che Intendeva il collega Comunque Prima di tutto Non hanno consapevolezza Nell'uso degli strumenti In molti casi E questo Spesso anche i docenti E anche io In alcuni casi Anche i miei colleghi Non me ne tiro fuori Però molto spesso Quello che manca È proprio la consapevolezza Che non significa Magari necessariamente Essere dei programmatori Però quantomeno Sapere cosa significa Anche solo Un trasferimento di file In rete E questa è una cosa Che dà un potere enorme Sia se siamo uno studente Sia se siamo un docente E in altri casi Tra l'altro Non è neanche vero Che ne sanno così tanto Rispetto agli strumenti Nel senso che A me è capitato Di fare dei focus group Con degli studenti Del passaggio Tra le scuole superiori E l'università E alcuni degli strumenti Che noi davamo Per scontati D'accordo che siamo Un centro di ricerca Del Politecnico Di Milano Eccetera Che però Per noi sono scontati Loro non li avevano Mai sentiti nominare Ad esempio Certi applicativi di Google Tipo Google Docs Eccetera Quindi non è neanche Del tutto vero Di conseguenza Ancora di più Una consapevolezza Sia dei docenti Ma non solo Ma anche del resto Del personale Che ci lavora intorno E degli studenti È particolarmente Importante Ancora di più Magari slegarsi Da chi fornisce Le tecnologie E queste Appunto multinazionali Aziende Che hanno un potere Sempre più Più grosso E pervasivo Nel mondo Anche dell'istruzione Ebbè Allora Sono stato tirato in causa Devo dire Che Nella mia esperienza Puoi lavorare Con due Teenager Ragazze Quindi Biologicamente Anche più avanzate Dei maschi Nella mia esperienza Devo dire Che Il punto nodale È Se sono interessati Si documentano Imparano Tutto Voglio dire Arrivo a casa Papà Stai mica Usando internet Stai mica Scaricando qualcosa Perché io non riesco A vedere il filmato Su youtube Allora Il concetto di banda Non gli entrerà Con la definizione Che viene Raccontata Qui Al primo Secondo anno Dal politecnico Ma lo imparano Assolutamente Così Sul campo Il nodo centrale Che Secondo me Deve Svolgere L'insegnante È proprio Quello Di Interessare Interessare E Abituare Questi ragazzi Con l'uso Gli strumenti Tecnologici A farsi delle domande A farsi delle domande A scoprire delle cose Nuove Delle cose diverse Nel modo Con cui la tecnologia Oggi Ci mette a disposizione Tutto quello Che Siamo in grado Di Di Reparire Diciamo così Su internet E non solo su internet Ma anche In Nelle nostre fotografie Il riconoscitore Il riconoscitore di volti Che permette Di Il riconoscitore Di luoghi Di gps Eccetera Eccetera Che permettono Di costruire Anche degli altri Percorsi Io Ho la mia figlia Più piccola Che sta preparando L'esame di terza media Quindi Ricordatevi il cognome Se capitate In commissione Voglio dire Una buona parola La metto di fronte A tutti Magari Ok Sta preparando Questi percorsi E io ho imparato Così Visto che La figlia più grande Quando Si è trovata A fare l'esame di terza media Ha avuto un approccio Completamente diverso Si è chiuso in camera Si è fatta le sue cose E poi Ci ha detto Vabbè Questo è quello Che io ho preparato Per il mio esame di terza media Ho imparato Che dovrà andare Di fronte alla commissione A raccontare Certi percorsi Eccetera Eccetera E ieri Abbiamo cominciato A sviluppare Elis Island Il tema di Elis Island Dove ci siamo stati Anche un paio di estati fa E tutti quelli Che sono i collegamenti Problematiche Dell'immigrazione E poi andiamo All'immigrazione I flussi migratori Nell'Europa Eccetera Allora In modo di fare Le ricerche Anche se il risultato finale È lo stesso Voglio dire Io produco Una conoscenza Anche se i fatti Non sono cambiati Perché i flussi migratori Sempre erano gli stessi Ma il modo di fare Le ricerche È completamente cambiato Adesso andare su Wikipedia Così Google Docs Non lo sanno usare O meglio Io ho imparato a usarlo Due mesi fa Google Docs Lo sanno usare Al volo Questo ve lo dico Al volo La figlia grande Quando devono scambiarsi Al liceo Delle informazioni Pum Area comune Google Docs E chi se ne importa Se poi dopo La politica della privacy Di Google Ci dicono Che Voglio dire Lì Tanto è tutta roba È tutta roba Assolutamente Di libero Di libero dominio Allora Secondo me Il nodo centrale È quello di padroneggiare Le tecnologie Per sapere Che cosa Queste possono offrire E poi E poi lasciarsi andare E interessare Io ho visto prima Nella presentazione Di prima Che il nodo centrale È stato Interessare Gli allievi Dopodiché Io credo che Come in tutte le strade A camminare In mano Ci sono I momenti In cui uno tira di più Ed i momenti In cui uno tira di meno Tra parentesi E ho finito Gli insegnanti Devono saperne molto Di tecnologia Ma non solo Per gli strumenti Che vengono messi a disposizione Ma anche perché Vi devo dire L'uso del telefonino Il bluetooth I collegamenti Eccetera I modi di copiare Di comunicare Di trasmettersi le informazioni È molto Ma molto cambiato Io andavo agli esami Con la giacca Perché è molto facile Mettere i bigliettini Della giacca Anche quando questi Voglio dire Dovessero essere spiegazzati In una tasca di pantaloni Non entrano E non escano E non escono molto bene Così adesso Mi tolgono anche la laurea E devo ricominciare da zero No no L'incubo E l'esame di maturità Non sono sicuramente Gli esami qua All'università Adesso Il bluetooth Adesso i telefonini Adesso Vi si dice Ma io lo vedo Hanno dalla loro parte Hanno dalla loro parte La giovinezza Non vi sto raccontare La casa cablata Che ho io E come usano Le varie risorse A casa mia Ma io sono Sicuramente un caso Speciale Non sottovalutiamoli E secondo me Facciamo solo il loro bene Nel accompagnarli In questo percorso difficile Che è la crescita Porto un contributo Estremamente marginale Rispetto ai grandi temi Di questo dibattito Torno sulla robotica Sono perfettamente d'accordo Io stesso Dovendo installare L'aula Della informatica Per la fondazione Per la scuola Della compagnia di San Paolo Ho scelto la robotica Perché avevo due mesi di tempo Mi sono appoggiato Due maestre Della scuola elementare Che usavano I robotini Della Lego E queste mi hanno installato Tutto Mi hanno fatto funzionare Il sistema In modo perfetto E quindi sono stato Pienamente soddisfatto Ma Quei robot Sono leghisti Cioè sono i robot Della Lego L'egoista E pertanto Hanno due difetti Il primo difetto E sono proprietari E appartengono A una multinazionale straniera Il secondo difetto Sono molto costosi E per cui Il mio timore E che Si creino le premesse Per un nuovo Digital divide Che in realtà Un economic divide Col bimbo ricco Che ce l'ha a casa E ci gioca E gli studia E il bimbo povero Che non ce li ha Per cui colgo Quest'occasione Per invitare i presenti Perché non mettiamo Insieme Dei robot Non leghisti Basati su Arduino Facciamo un progettino Tutti insieme Arduino si presterebbe Certo E' talmente D'utile Prego Sono un'osservazione Pragmatica Ricollegandomi A quello che diceva Il collega E faceva esempio Dell'utilizzo di Facebook Che con Qualche centinaia Di milioni di persone E' ovviamente Un posto difficile Ed evitare L'osservazione Pragmatica Che frutto anche Di un'esperienza Didattica Che io sto facendo In questi mesi Un corso del primo anno Del Politecnico Riguarda Gli strumenti esistenti Sul web In questo momento Secondo me E' utile E' stato necessario Per me Ma potrebbe anche Essere utile Per voi Capire quali sono Gli strumenti In questo momento Più utilizzati E le caratteristiche Specifiche Di ciascuno Tutti O quasi Conoscono Facebook Però Facebook A certe cose Le fa molto bene E altre le fa In maniera molto peggiore Provate a fare una discussione Un po' argomentata Su Facebook E' piatta E quindi E' estremamente difficile Condurla Quindi Quello che vi Inviterei a considerare E' che c'è In ogni Ogni momento Ogni Direi ogni Un paio d'anni Perché le cose Cambiano rapidamente Ma ogni paio d'anni C'è come una costellazione Di strumenti Complementari Ovvero che si specializzano Per fare una certa cosa Bene E lavorano in sinergia Con gli altri In questo momento Penso che La conformazione Sarebbe Da una parte Facebook Per chi lo vuole utilizzare In fondo Inevitabile Se vuoi andare a cercare Le persone che ci sono Che sono tutte lì Sostanzialmente Però dall'altro Abbiamo Twitter Quindi comunicazioni Molto brevi Che servono a collegare Altre cose che capitano Per esempio Ho postato qualcosa Su un blog Lo segnalo su Twitter Quindi Pessimo per fare Conversazioni Chiaramente Anche questo Il blog Ci sono piattaforme Blog Molto intuitive Con delle funzionalità Innovative Come per esempio Tumblr Che è quella che usiamo In questo corso E poi Abbiamo scelto di utilizzare Uno strumento Che in realtà I giovani non conoscono Perché tutte le statistiche Lo dimostrano E anche l'alzata di mano Cioè la posta elettronica Abbiamo una mailing list Una vecchia mailing list Alla prima lezione Abbiamo insegnato La netiquette Abbiamo spiegato Come ci si C'è una sezione specifica One to many Come ci si relaziona Agli altri Perché abbiamo pensato Che Twitter La comunicazione rapida La segnalazione Il blog Per i propri contenuti Originali E la main list Per la conversazione Formale Formale significa Che stai parlando A dei colleghi A i docenti I nostri speaker ospiti E quindi devi imparare A impostare un argomento A rispondere a tono A essere cortesa A rimanere in tema E così via Quindi strumenti Di complementare I tradi d'oro Che alla fine Saevano per il corso Ma la nostra speranza Sia anche un know-how Che pur evolvendo nel tempo Perché magari Twitter tra tre anni Non c'è più O ci sarà Qualcos'altro Sopposto L'idea di Usiamo lo strumento opportuno Per le sue punti di forza Questa competenza Sia fondamentale Anche per il mondo del lavoro E anche per la propria attività civica Chiederei a Trentin Siamo in chiusura Magari di Darci Qualche considerazione Appunto Sulle migrazioni Sì Intanto voglio dire Avete visto che Sono Chiedo scusa Sono emersi alcuni punti Molto interessanti No? Dagli ultimi interventi Cioè Occhio a non sposare Lo strumento X Ma la funzionalità Che ci può servire Per comunicare Poi domani X diventa Y Diventa Z Diventa quello Ma se abbiamo comunque Compreso La funzionalità Che una certa categoria Di tecnologie Può dare E può offrire A supporto Della nostra attività Di insegnamento Apprendimento Evidentemente Cambiando poi Il nome Dell'oggetto Voglio dire Uno ha già In qualche maniera Accumulato Conoscenza Su come utilizzare Quella dinamica Comunicativa Che va sotto Sotto quella sigla Che è CMC Che funziona bene Se in italiano Che in inglese Computer Mediated Communication Comunicazione Comunicazione Mediata Del calcolatore Ecco Che diciamo È una categoria Voglio dire È un dominio È un contesto In cui si studia La modalità Di interazione Mediata Della tecnologia Poi la tecnologia Può cambiare La CMC Non nasce Col web 2.0 La CMC Nasce Da quando Si è cominciato A utilizzare Le reti di computer Come strumento Di comunicazione Ma ancora prima La comunicazione Uomo computer Quindi Chiedo scusa Adesso Per questo Inciso Invece Ecco Volevo un attimino Ritornare un po' Sul tema Della tavola rotonda Perlomeno Sulle parole chiave Di quella Del titolo Della tavola rotonda Allora A me Dalle esperienze Che abbiamo fatto Con il nostro Gruppo di ricerca Insomma Diversi anni Ormai che lavoriamo Sul contesto Ospedale E scuola E attività domiciliare Quello che Ci sembra È che L'ho accennato Prima brevemente Ma che Le esperienze Maturate In questo contesto Di difficoltà Siano diventate Degli incubatori Straordinari Di Metodi Prattiche Prassi Chiamiamole come vogliamo Esportabili In un contesto Diciamo Chiamiamolo Normale Tanto per differenziarlo Dal contesto Diciamo Quello Speciale Ok Questo però Implica alcune cose Allora Guardiamo un attimino Perché È come noi Utilizziamo Le tecnologie In un contesto Speciale Le utilizziamo Intanto Perché Percepiamo Che la tecnologia Può dare qualcosa In più Ci può aiutare Realmente Per raggiungere L'obiettivo Che ci poniamo Cioè Quello di Includere Educativamente Uno studente In un percorso Formativo Sia per breve periodo Sia totalmente Prima la mia collega Accennava Al caso che sta seguendo Sono studenti Che proprio Non possono frequentare Assolutamente La scuola Quindi c'è già Un grosso Impulso Da parte Dei Dei Docenti Anche dalle famiglie Perché poi sono coinvolte Mille Altre Altre Entità Però Questo cosa vuol dire Se io tratto il caso Singolarmente Ho il rapporto Diretto con lo studente E gestisco La mia interazione Con lo studente Quasi In maniera Ovattata Se come Invece Si stanno sviluppando In maniera Molto interessante Esperienze In cui lo studente Da casa Partecipa Attivamente Alla lezione E partecipa Attivamente Alle attività Di studio In maniera Collaborativa Con i propri Compagni Qui nasce Un altro piccolo Problema E cioè Quello di Organizzare L'attività Didattica Della classe Perché se no Altrimenti Voi Ci Voi Insomma Voglio dire No Voi siete quelli Che operate Direttamente Sul campo Specifico Ma voglio dire L'insegnante X Che si trova O la classe X Che si trova Improvvisamente A dover gestire Un caso Può cominciare Ad avere Qualche problemino Nel senso Di dire Ma come Io devo Organizzare Tutto Stambaradà Per una persona Che magari Sta a casa Quest'anno Oppure Questi due mesi O tre mesi Dopodiché Finisce tutto Allora vi porto Una piccola esperienza Personale Busalla Entroterra Genovese Fine anni 90 Mi trovo A gestire Una situazione Con una scuola Elementare In cui un ragazzino Per immunoneficienza Non poteva frequentare Allora Il papà Un tecnologo Perché poi chiaramente Quando i genitori Sono tecnologi Sono un'arma A doppio taglio Da una parte Danno le idee Dall'altra parte Bisogna arginarli Perché se no Ti mettono i piedi Anche in testa Comunque Stimola La scuola Per fare in modo Di mettere Una webcam Di fare Metà Siamo circa Metà anni 90 E quindi voglio dire Siamo proprio Ecco Ma non importa Però vorrei Soltanto sostenere una cosa Non importa La tecnologia Che è stata usata Concentriamoci Sulla dinamica Ok Allora Succede che Allora Si comincia A sensibilizzare L'ente locale Che mette Il cavo Telefonico Gli insegnanti Io partecipo Periodicamente Una volta in due settimane Alla programmazione didattica E mi arriva Questa Questa Obiezione Dice Sì Noi Anche per solidarietà Il discorso Che si faceva Prima Noi lo facciamo Molto volentieri Però ci accorgiamo Che facciamo Un extra lavoro Che muore Nel momento in cui Non ci troviamo più A gestire questo caso Allora Io ho usato Una strategia diversa Cioè Ho cercato Di fargli capire Che quello Era Il cavallo Di Troia Per entrare In una logica Di utilizzo didattico Della tecnologia Che una volta Tolta L'esigenza Specifica Del momento Rimaneva Come ritorno Di investimento Per la scuola Questo diciamo E' stata la cosa Che ha fatto scattare Notevolmente La motivazione Degli insegnanti Cioè Hanno compreso Che comunque Non investivano Per quel caso Particolare E qui non mi rivolgo Tanto alla ospedaliera Perché sappiamo Che nell'ospedaliera Agiscono insegnanti Voglio dire Che Con nome Cognome Inquadramento Di un certo tipo Vi risseguono Io mi penso Principalmente Alla situazione Della domiciliare Dove da un giorno All'altro Può succedere Che ci sia Questa esigenza Quindi a questo punto Nasce l'esigenza Però per applicare Questi tipi di strategie Nasce l'esigenza Di riorganizzare Un po' L'attività didattica In classe Se dobbiamo Prevedere Che ci sia Uno studente A distanza Con delle esigenze Particolari Quanto modificarla Questo lo si può discutere Ma sicuramente Un minimo di modificazione Ci sta Allora Perché incubatore E chiudo Incubatore Perché se noi Andiamo a vedere Adesso che cosa Sta succedendo Dal 90 Adesso sono passati Un pochettino Di anni Quindi la gente Adesso è molto più Abituata alle tecnologie La prima cosa Che fa un genitore Che ha un figlio Che ha un figlio Con difficoltà E che deve stare a casa Pensa immediatamente A prendere computer Collegamento internet Quindi voglio dire La questione tecnologica Da questo punto di vista Mi preoccupa Un pochettino meno Il discorso invece È un altro Il discorso è Di cercare Di Come posso dire Imparare A progettare Una didattica Che includa Delle situazioni particolari Giusto? Allora Queste situazioni particolari Molte volte Vanno oltre Il tempo della scuola Si entra nel cosiddetto Tempo extra scuola Si entra nel cosiddetto Extended learning Tecnicamente Alberto Usiamo questa termina Allora Piccola parentesi Lui effettivamente È l'unico Non Perché io Sottometite spogli Anch'io sono un ingegnere Però Attenzione Ecco Però Attenzione 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 Il discorso è un po' questo I tecnologi didattici Sono quelli Che a un certo punto La loro carriera Cioè dopo circa 27-28 anni Che uno fa questo mestiere Non è riconosciuto Né come ingegnere Perché ormai Sei anacuato E neanche Dai pedagogisti Perché tu non hai seguito Il nostro percorso Però io ritengo Che fondere Queste due competenze Sia Importante Per andare In questa direzione Per cui Tornando al discorso di prima Chiedo scusa Quello che Voglio dire È che ormai La tecnologia È molto diffusa Di conseguenza Tutte queste Strategie didattiche Che sono state E anche Riorganizzazione Della classe In funzione Di un coinvolgimento Dello studente Ma non solo Nel momento Della lezione d'aula Ma soprattutto In quella Estensione Che qualcuno Ha citato Anche durante il pomeriggio Cioè l'attività Di studio collaborativo Con i compagni E di supporto Da parte dell'insegnante Ecco Questi secondo me Sono modelli Che Si sono affinati Nella didattica domiciliare Là dove si sono sviluppati Per un'esigenza Molto forte Ma secondo me È quelli che vanno visti Per pensare A come riproporli In una situazione Chiamiamola Di didattica Normale Per questo Che la considero Come incubatore E secondo me C'è molto da imparare Vi posso assicurare Che c'è molto da imparare Perché effettivamente Il discorso di riprogettare L'attività didattica Che includa Una situazione particolare Indubbiamente Modifica un po' L'assetto standard Ma è quello Il modo di Utilizzare le tecnologie In maniera più estensiva Che non soltanto In attività O individuale O diciamo Nei muri Nei muri della scuola Ecco Ma io direi Che con questo Poi Avrei Adesso È meglio Che chiudere No 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 Certo Sì anche perché Chiedo scusa Ma è un po' L'entusiasmo No ma sto pensando Al fatto che Ormai è assolutamente Assodato Che dobbiamo andare Verso una specie In formazione permanente Sarà bene Che dalla scuola No si impari Che cosa voglio dire Perché non è che possiamo Stare tutti Nella stessa classe Prego Io chiudo Invitando Chi è interessato A saperne un po' di più Visto che non ho avuto Un motivo di parlarne Di editoria digitale Opportunità Eccetera Eccetera A visitarsi questo sito Si chiama www.giovediscienza.org Giovediscienza.org Allora È un po' Un'autocitazione Poi non è che vado a vedere Quante volte mi avete cliccato In realtà lo faccio Però Il 26 di gennaio C'è stata una conferenza Di Giovediscienza Dove ho parlato Del libro digitale Questa tecnologia È una tecnologia Che va a rivoluzionare Molto più dell'iPad Molto più del tablet Il modo Di fare Didattica Allora Io non mi porto dietro Non devo decidere Tra portarmi dietro Beh io no Vestiti O libri Porto tutti e due dietro Mi porto dietro Il mio lettore Ebook E mi porto anche i vestiti In realtà la situazione È più drammatica Per le ragazze Ma Lasciamo perdere Ok Allora Questa cosa qua È ancora un livello Il libro digitale È ancora un livello Molto primordiale Soprattutto in Italia Se confrontata con altri paesi Si vedono le pubblicità del Kindle Si vede Amazon Si vedono i nuovi lettori Si va su internet Si vedono queste biblioteche digitali E poi si rimane spaesati Perché è una nuova tecnologia Dove Non si sa Cosa faccio Cosa non faccio Compro Non compro Compro il Kindle E poi dopo vado a comprare un libro Su una biblioteca digitale Fuori da Amazon E non è compatibile Diritti d'autore Non diritti d'autore Eccetera Eccetera Allora Sono una 45 minuti Tre quarti d'ora Più o meno Dove si dà un'infornata Poi ci sono due tesine Fatte in formato Standard PDF Obsoleto E formato ebook Da due miei studenti Le trovate E trovate il video Lo potete vedere In streaming Potete anche con qualche accorgimento Scaricarlo Dopodiché Uno ha un minimo di Un minimo di Di cognizione In più Se non è oggi Sarà tra sei mesi Se non è tra sei mesi Sarà tra un anno Ma questa è un'onda Che arriva Oggi gli strumenti Sono molto grezzi Tra due anni Cioè io Il primo ebook L'ho comprato Quattro anni fa Non c'è paragone Quindi Giovediscienza.org La conferenza Del 26 di gennaio Bene Grazie Abbiamo concluso Non vi abbiamo Eravate Abbondantemente Cotti Grazie Ringraziamo tutti Perché veramente Ci hanno stimolato Moltissimo Tutti i partecipanti Della tavola rotonda Rispetto anche Ai temi di domani E dei prossimi workshop Sia tecnologia E formazione Sono due problemi Che abbiamo Grazie a tutti Grazie